Un nuovo libro con un assassinato in un food truck a una fiera gastronomica a Barcellona e una trama complicata dove una sfida per Petra come investigatrice e per Garzón che le aiuta tanto. A Petra devo tantissimo traduzione, tante lingue, adattazione alla tv, lettori. E cosa abbiamo in comune Petra e io? Il senso dell'umore, l'ironia, si arrabbiamo a volte, ma Petra è più coraggiosa di me. Non ho fatto una rivoluzione, la rivoluzione è stata di mettere una donna come protagonista assoluta, una donna che comandava, che non era aiutante di un altro, che non era in secondo piano, ma in primo piano, al centro dell'istoria. Questo, se non è una rinnovazione, è una portazione. Palla Cortelezzi è un'attrice incredibilmente buona, mi ha piaciuto tanto, ha fatto una Petra intelligente, che è bella, ma non è una Barbie. E anche volevo nominare Andrea Penacchi, che fa il suo vice e che è un attore bravissimo.